il salotto letterario di casa sanremo quanti begli ospiti quanti autori quanti autrici in questo caso oggi ospito con noi giusi russo giusi benvenuta grazie grazie buonasera a tutti buonasera a te devo dire che sono molto io lo dico perché mi piace dirlo sono in presenza di una siciliana e diciamo perché i siciliani hanno questa marcia in più e quest'anno giusi è stata selezionata per partecipare a cada sanremo writers tu arrivi con un romanzo che si intitola di notte solo di notte giusi perché di notte solo di notte allora svelare il significato di questo titolo significherebbe svelare il finale pensa perché proprio nell'ultima pagina del libro di di questa diciamo narrazione emerge con chiarezza il senso di questo titolo quindi mi fermerei qui rimango dentro un'aura di mistero e mi piace così perché ripeto significherebbe spoilerare come si usa dire oggi e anche troppo e questo toglierebbe anche quella quella suspense che sempre sostiene nella lettura di un romanzo certo per arrivare alla fine però poi dirci per esempio da dove si parte e qual è per esempio la location quali sono i posti quali sono i luoghi e ambientati nella tua sicilia sì allora sì ambientato in sicilia ma non del tutto vi è la una lampedusa brillante di sole ma nello stesso tempo una torino austera un po aristocratica e anche aggiungo la namibia l'africa con la sua con le sue ineffabili bellezze e il romanzo prende le mosse dalla vicenda di di una donna angela che si trova in prigione e le ragioni di questa prigionia anche queste sono disvelate alla fine il romanzo è una è la storia di una dipendenza affettiva oggi si parla molto di amori tossici ahimè ecco la storia di angela si iscrive dentro questa diciamo questo tipo di relazione una relazione a specchio dove due fragilità si fondono quella di angela e quella di ivano un uomo tendenzialmente violento e abbastanza come posso dire un uomo che viola il suo corpo con la rapina di un predatore beh quindi diciamo siamo molto nell'attualità a questo punto devo dire giusi perché diciamo negli ultimi i fatti di cronaca o anche in generale questo periodo si parla tantissimo di questa storia di questo rapporto tossico tra alcuni uomini e alcune donne perché bisogna fare tutta un erbo un fascio assolutamente sarebbe un grande errore e quindi giusi questo significa che c'è all'interno di questo tuo romanzo un messaggio a di là della storia del mistero e di quello che è significato della morte solo di notte no assolutamente sì è ben inteso questo messaggio non è rivolto soltanto alle donne come si potrebbe diciamo arguire così a tutta prima perché perché io sono una donna e mi rivolgo alle donne in realtà io mi rivolgo anche al mondo maschile è come se io volessi dire agli uomini invitarli in qualche modo ad aprirsi alla vulnerabilità alla fragilità a non averne paura perché sovente gli uomini che poi scivolano nel crinale della violenza sono gli stessi che non sanno riconoscere e accettare profondamente la propria vulnerabilità il proprio essere la propria umanità poi in fondo no e per quanto riguarda le donne ecco mi piacerebbe che le donne tutte forse compresa la sottoscrita tutte le donne cambiassero atteggiamento nei confronti di se stesse cambiare strategia diventare come posso dire non essere pietra muro ma acqua è una cosa che mi piace dire sempre nelle presentazioni perché i muri prima o poi si sgretolano invece il fiume va e va al mare e il mare siamo noi noi con il nostro valore la nostra bellezza con la nostra autenticità e dobbiamo credere di più in noi ecco una cosa che mi piace molto che tu hai sottolineato che in realtà poi la forza di un uomo starebbe nella sua fragilità e allora sta nell'accettazione della fragilità come un fatto umano e invece a volte per quel retaggio culturale che ben conosciamo oggi si parla molto di patriarcato ecco l'uomo dinanzi alla propria fragilità indietreccio oppure assume la foggia del carnefice perché forse anche la strada più facile no quella di non guardare le proprie paure interiori e considerare la donna come oggetto e dunque come un possesso e questo è chiaro che non può sussistere perché la donna ha soprattutto nei tempi moderni che per fortuna viviamo la donna ha la possibilità oggi e il diritto di anche come posso dire lasciare un uomo abbandonare una storia in cui non si riconosce e tutti i femminicidi che che la cronaca ogni giorno ci consegna hanno se ci pensiamo la stessa dinamica sono uomini che non sanno affrontare il senso dell'abbandono la perdita quindi io credo che il punto nodale per quanto concerne il mondo maschile sia questo ma per superare tutto questo è necessaria davvero una rivoluzione culturale io sono un insegnante e so quanto quanto peso ha la cultura nei grandi cambiamenti e quanto faticoso sia questo percorso veramente faticoso però va fatto perché viceversa il rischio è trovarsi in una deriva anche peggiore rispetto a quella in cui già ci troviamo perfetto allora diciamo subito che già hai dato tantissimi elementi per insomma così addentrarsi nella lettura di un romanzo così importante per la curiosità della storia ma anche per la forza del messaggio che tu hai hai molto insomma espletato poi naturalmente ne parleremo in maniera dettagliata poi a casa sanremo allora giusi russo di notte solo di notte lo scopriremo quando leggeremo il suo romanzo alla fine come si dice in questi casi ci vediamo a sanremo grazie giusi grazie a te grazie infinite